In questa puntata di Vivere in Salute è la giornata del dializzato all'ospedale Castelli di Verbania, un'occasione per parlare di prevenzione, di dialisi ma anche di trapianto. Poi conosceremo i ghiribizi, originali creazioni artigianali realizzate da alcuni pazienti del Dipartimento Salute Mentale dell'Asl VCO, in vendita a Intra. 21esima giornata nazionale del dializzato, iniziativa di informazione e prevenzione delle malattie renali lunedì 8 ottobre all'ospedale Castelli di Verbania, organizzata dal Comitato Piemonte dell'Associazione Nazionale Emodializzati, Dialisi e Trapianto Onlus e dalla struttura di Nefrologia e Dialisi dell'Asl VCO. Installato un punto informativo nell'atrio dell'ospedale ma offerta anche al pubblico la possibilità raccolta da molte persone di sottoporsi ad uno screening gratuito per la valutazione della funzionalità renale presso i vicini poliambulatori. Il significato è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica alla conoscenza di quelle che sono le problematiche dei pazienti affetti da malattia renale, soprattutto quelli affetti da malattia renale avanzata, quindi il trattamento dialitico e anche di chi potenzialmente può essere un ricevente di un trapianto renale. Ma è anche l'occasione per fare una giornata sulla prevenzione delle malattie renali e l'aspetto cui teniamo particolarmente, ossia quello di prevenire in una fase molto iniziale l'eventuale disfunzione renale in modo tale da poter apportare le giuste cure di impedire l'insorgenza dell'insufficienza renale che poi inevitabilmente porterebbe al quadro di uremia terminale. Accanto al volantinaggio proponete già in questa giornata un primo screening? Sì, l'obiettivo appunto oltre a quello della sensibilizzazione era quello di screenare con misurazione della pressione e uno stick delle urine l'eventuale presenza di iniziali spie di allarme per quanto riguarda la buona funzionalità dei reni. Com'è la situazione a livello locale? Quali sono i numeri? Nelle VCO rispetto a quelli che sono i dati regionali abbiamo sempre avuto dei dati di incidenza e di prevalenza per quanto riguarda i pazienti di trattamento dialitico leggermente superiori. Quello che possiamo dire è che abbiamo registrato soprattutto nell'ultimo anno una riduzione dei pazienti che passano dallo stadio terzo della malattia renali cronica allo stadio 4 che sarebbe quello che antecede l'avvio del trattamento dialitico. Questo credo sia espressione non soltanto dell'attività capillare di tipo specialistico svolta sul territorio del VCO ma anche dell'ottima collaborazione con i medici di medicina generale che sono sempre più sensibili al problema della malattia renali cronica e quindi abbiamo instaurato un ottimo rapporto, un ottimo feedback che ci consente di ottimizzare le cure dei pazienti affetti da problematiche renali. Riuscite a far fronte a tutte le richieste del territorio? Con qualche sacrificio da parte dell'equipe nefrologica questo fino ad ora si è sempre riuscito a farlo quindi mantenendo dei trend di attività tanto ambulatoriale quanto dialitica abbastanza elevati considerato il numero di specialisti che operano nel settore però riusciamo ad oggi a soddisfare le richieste del nostro bacino di utenza. Nella nostra azienda sanitaria sono 150 ai pazienti in dialisi, partner della giornata, all'ANID Piemonte che proprio nel 2012 ha compiuto 40 anni. Siamo in un'associazione di autotutela quindi tuteliamo le persone nefropatiche sia in terapia conservativa prima della dialisi, in dializzati e in terapia antirenali. Proprio in quest'ottica questa è una delle occasioni annuali che facciamo, che teniamo per manifestare quella che è la nostra situazione. Quindi prevenzione dei malati renali, giornata di dializzato e chiaramente anche un minimo di informazione sul trapianto renale che per le persone che ne hanno le indicazioni è effettivamente la terapia più importante. Sento che siete un'associazione di pazienti conoscete bene la realtà sia dei dializzati che delle loro famiglie. Com'è questa realtà? Sono in particolare moglie di un dializzato. Ho una lunga esperienza perché mio marito ha iniziato la dialisi nell'86, nel 1989 ha fatto un trapianto renale che ci ha ridato la vita. Abbiamo potuto di nuovo viaggiare, fare qualche bel viaggio anche. Nel 2007 però è tornato in dialisi dopo 18 anni di trapianto. È attualmente in dialisi di nuovo e speriamo in un altro trapianto renale perché chi ha già avuto questo trapianto sa veramente che è passato da un periodo buio a un periodo di nuovo di luce. Io vorrei proprio dire a tutti che ci vuole la promozione per la donazione degli organi, di non aver paura perché sono tutelati, perché la morte è certa quando vengono presi questi organi, anzi è più certa di quelli che ti dicono che è mancato il suo parente e viene spostato immediatamente per dire in obitorio. Queste persone da quel momento lì invece per sei ore vengono controllate da un'equipe esterna di dottori e per sei ore si controlla che non ci siano segnali di vita da nessun punto di vista del corpo, dell'interno, dell'esterno. Com'è la sua esperienza e perché è importante fare prevenzione su questo tipo di malattie? Secondo me la prevenzione è molto importante perché purtroppo quando si arriva magari all'ultimo momento, quando già lo stadio della malattia è avanti, purtroppo si arriva magari a entrare in diagnosi in breve tempo, mentre facendo la prevenzione si può magari anticipare la malattia e curarla eventualmente se ci fosse questa malattia. Quindi la prevenzione è molto importante su tutto praticamente. È una patologia che cambia completamente la vita? Eh sì, praticamente cambia la vita, poi bisogna poi adattarsi a questa vita, una volta che si entra nella realtà della dialesi, io sono 28 anni che faccio la dialesi, ho dovuto accettarla, collaborare con i miei medici e le ringrazio perché grazie a loro facciamo una buona vita, poi più con il nostro impegno si riesce ad andare avanti bene, però comunque come diceva prima la signora precedente, poi c'è l'importanza di fare poi anche questo trapianto quando sarà il momento giusto per farlo. La loro casa è a Intra in via Rigola. Si tratta di un colorato ed accogliente laboratorio bottega aperto a tutti e ricco di idee regalo. Stiamo parlando dei ghiribizi, pupazzi rigorosamente fatti a mano ma anche bijou ed accessori per la casa e per i neonati e creano alcuni pazienti del Dipartimento Salute Mentale dell'Asla VCO. I ghiribizi sono delle creazioni originali, artigianali, realizzate all'interno di questo laboratorio. Questo è un progetto che è nato un anno fa e viene realizzato dalla cooperativa di vieto di sosta in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell'Asla VCO, con l'associazione Avap e con Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus. I ghiribizi sono delle creazioni artigianali realizzate con materiali di recupero che danno la possibilità alle persone che vi lavorano di reinventarsi, di creare, di riscoprirsi, di uscire dal loro isolamento, di socializzare. Tra l'altro questo è lo sviluppo di un progetto che è già stato portato avanti all'ospedale di Verbania. Esatto, questo è un ampliamento di un progetto già esistente, l'Hshop, lo spazio vendita che c'è nell'ingresso dell'ospedale di Verbania. È un'opportunità per permettere a un maggior numero di persone di riscoprirsi. La cosa bella è che attorno ai ghiribizi si è creata una rete di commercianti che offre gratuitamente stoffe, nastri, scatole di latta e tutto quanto occorre alla loro realizzazione. Si tratta di un progetto finanziato da Fondazione Cariplo che ha però una scadenza. Da qui la necessità di recuperare nuove risorse. A questo scopo nei giorni scorsi è organizzata anche una staffolle nel vicino ristorante Corcovado, all'incanto Ghiribizi Limited Edition preparato per l'occasione. Il progetto ha una durata biennale e scadrà a marzo 2013. Questo significa che l'attività che già di per sé è molto vulnerabile perché il target stesso del progetto comunque rende difficile autosostenersi. A marzo 2013 ci metterà di fronte a un grosso punto interrogativo per cui ciò che noi vorremmo fare questa sera è creare delle sinergie importanti con tutte le realtà del territorio che lavorano nell'ambito della salute mentale, che lavorano nell'ambito del volontariato. Ci piacerebbe veramente che lo spazio del laboratorio diventasse uno spazio aperto a tutti quanti. Anche in questo senso vorrei far sapere appunto a tutti i cittadini del VCO che a breve partiranno dei corsi degli atelier aperti al pubblico. Qual è l'importanza di questa attività per i vostri pazienti? Noi abbiamo all'interno dell'ospedale Castelli uno spazio dedicato alle vendite di prodotti che possono servire ai degenti e ai loro familiari e in questo spazio lavorano alcune persone che hanno avuto anche problemi psicologici o psichiatrici e che oggi stanno molto bene. per noi è importante perché serve anche a sdramatizzare la malattia psichiatrica, a togliere il pregiudizio che le malattie psichiatriche siano incurabili, così non è assolutamente. Perché siete diventati sostenitori dei Ghiribizi? Qual è il loro valore aggiunto? Perché la Fondazione Casa di Carità è presente sul territorio con interventi di formazione professionale rivolti a persone svantaggiate. Siamo attivi in particolare in carcere sviluppando progetti di incubatore di impresa e ci sembrava che questa attività potesse essere sostenuta e rientrasse in questa nostra linea di intervento. Pertanto il tema di fornire a delle persone svantaggiate del territorio un'opportunità occupazionale che transitasse dalla loro capacità artigianale ci sembrava qualcosa che rientrava in maniera coerente rispetto a quelle che sono le nostre linee di intervento. Siamo al termine di questa puntata di Vivere in Salute. Per qualsiasi informazione potete chiamare il numero verde 800 307 114, connettervi al sito www.aslavco.it oppure scrivere a vivere in salute chiocciola aslavco.it, indirizzo utile anche per segnalarci argomenti di vostro interesse. Noi torniamo giovedì prossimo.